Allora, questa è la testa del gattino, queste sono le orecchie, i baffi, gli occhietti, la boccuccia, il corpo, la coda, e questo è Tarzan. Come fa Tarzan? Ora facciamo neve. Neve come fa? Allora, neve è un po' più complicato da disegnare. Comunque, questa è la testa di neve, questo è il corpo, questa è la coda, le zampe. E dalla volta uso lo stilizzato, zia, con neve. Ma neve non ha le orecchie a punta in su. Allora, così. E c'è i baffetti piccoli, piccoli, piccoli. È tutta nera, è tutta nera, quindi è una macchia, non si capisce bene. E c'è questa coda che fa a sinistra e a destra. Giusto! E fa... Come fa neve? E qua aspetta, qua disegniamo un bel prispi perché lei col prispi è tutta contenta. Charlotte, come fa neve? Questa è la mano di Bebe che lancia il prispi. E mo' disegniamo Bebe. Allora, mo' facciamo il disegno di Charlotte. Gli occhi. Il nasino. Da porcellina. La bocuccia. Ma che bello sguardo intenso. I capelli biondi, brava Bebe! Lilia Biondi. Tu hai i fiori, ciuffettini, fiori, ciuffettino. E chi è questa? È Charlotte! E Charlette quando mangia? Così! e questo è proprio tu quando mangi la mela, il kiwi, la banana con la pastina e infine le mani dentro e fai così, così è, così è bebe, eccola eccola, non si capisce più niente, è tutta una macchia dai, disegna zia Federica zia, zia Federica è già troppo impegnativa vai, allora queste, queste sono gialle facciamo un fiore, facciamo la nuvola, come fa la nuvola? come fa la nuvola? come fa la nuvola? come fa la faccia arrabbiata? come fa la faccia arrabbiata? come fa la nuvola? come fa la nuvola? come fa la nuvola? grazie a tutti